I carabinieri di Gela hanno arrestato per tentato omicidio, stalking, minacce e porto illegale di arma da fuoco un giovane di 22 anni. Il ragazzo dalla scorsa estate avrebbe preso di mira la sua ex fidanzata sfiorando qualche giorno fa il tragico epilogo. Il giovane infatti con una pistola avrebbe tentato di uccidere i cani della donna e poi avrebbe sparato alla ragazza che si trovava nel balcone. Per fortuna la giovane per pochi centimetri non è stata raggiunta dal proiettile. È stata la stessa ragazza a raccontare ai carabinieri l'infinito calvario a cui lei la sua famiglia sono stati sottoposti dopo la fine della relazione. La giovane avrebbe riferito anche di alcuni messaggi che le sarebbero arrivati sui social in cui veniva mostrata una pistola. La ventenne si sarebbe affacciata dopo aver sentito dei colpi di pistola esplosi sotto la sua abitazione. Lì avrebbe notato i suoi due cani feriti e assistito all'ex fidanzato che nel frattempo avrebbe rivolto l'arma contro di lei. I militari dopo aver sentito a lungo la presunta vittima e i suoi familiari hanno tratto in arresto il ragazzo che durante l'udienza di convalida si sarebbe difeso raccontando tra le altre cose di essere stato aggredito da un parente dell'ex fidanzata mentre era in sella ad un ciclomotore. Da lì l'idea di andare a casa di quest'ultimo per un chiarimento dove gli sarebbero stati aizzati i cani contro e per questo avrebbe loro sparato. Il GIP del tribunale di Gela, Francesco Pulvirenti però, ha osservato che nonostante lo stato di incensuratezza del ragazzo persistono le esigenze cautelari. Per questa ragione è stato convalidato il fermo e ordinato la custodia in carcere.